Questa mattina la notizia delle dimissioni dell'assessore regionale alla Sanità Barberini, poco dopo smentita dal diretto interessato, ha scosso l'Umbria e la Giunta regionale, che ha su sbelli la nomina dei dirigenti regionali, una scelta maturata nella notte dalla Giunta in assenza di Barberini, come lo stesso ha spiegato oggi alle 14 ai cronisti in Piazza Italia. Non ho mai dato queste dimissioni. Non ho mai dato queste dimissioni. No, notizie da stampa. Sì, cioè una nottata così, insomma. No, ho diverse valutazioni, ma non ci sono dimissioni. Ma la posizione dell'assessore? Quella che conoscete da tempo. E Orlandi di qua, Duca di là, tutti questi scampi, com'è? È una decisione che è stata fatta, presa dalla Giunta. Ah, quindi la Giunta ha preso questa decisione senza l'assessore? Questa notte sì, sì, io ero assente. Ma è normale una cosa del genere? L'assessore alla Sanità che... Beh, è stato a disegno l'assetto delle direzioni della regione. Io non c'era. Non c'era? No. Però adesso è qui, può far sentire la sua voce. Adesso vedremo. L'assessore Barberini nel pomeriggio si è incontrato all'hotel Brufani con i compagni di corrente, Eros Brega, Andrea Smacchi e Marco Vinicio Guasticchi, in vista della riunione di giunta spostata alle 18.00. È tuttora in corso. Il Consiglio regionale, che dalla mattina era stato rinviato alle 15.00 del pomeriggio, si è svolto in un clima irreale, con le opposizioni sulle barricate in assenza dei membri della Giunta e della Presidente Marini. Incandescenti le reazioni dal mondo della politica, in una nota ufficiale la deputata Umbra del PD, Anna Scani, ha detto La politica Umbra non sta dando bella mostra di sé. La stampa ci offre ricostruzioni di un dibattito e di un processo decisionale fortemente condizionati, riportandoci parole che non avremmo voluto leggere, come caos, terremoto, rottura, invece di merito o trasparenza, ovvero quei concetti che spesso sono al centro dei nostri convegni, più che delle nostre riunioni. È palese la crisi della Giunta, che si è fortemente divisa sulle sei nomine legate ai direttori della sanità in Umbria, spiega il portavoce del centrodestra e liste civiche Claudio Ricci, per il quale si tratta di una semplice lotta di potere politico, senza minimamente guardare al merito e al curriculum dei direttori da nominare. Prospetta una vera crisi istituzionale il capogruppo 5 Stelle in Consiglio regionale Andrea Liberati, secondo il quale l'Umbria scade in una situazione completamente ingestibile. Uno spettacolo inedito e indegno riguarda le nomine dei direttori generali delle ASL, delle aziende ospedaliere e delle direzioni regionali, in atto oramai da mesi, secondo il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Marco Squarta. Il consigliere vicepresidente dell'Assemblea legislativa Valerio Mancini, Lega Nord, ha rimarcato come non si possa far ricadere sulle spalle dei cittadini l'anacronistico bisogno di poltrone e di equilibrismi di potere e di corrente.